Fratelli e sorelle buonasera, questo insegnamento serve per farci pregare bene il credo durante la messa. Il credo si apre affermando che esiste un solo Dio, Padre Onipotente. Subito si passa all'affermazione che c'è un solo Signore, Gesù Cristo. Questo Gesù è generato, non creato, è luce da luce e Dio vero da Dio vero esiste prima di tutti i tempi. E la musica ci dice come appartiene alla gloria di Dio. Ma ecco che questo Cristo discende. Si è fatto uomo, la musica cambia, la gloriosa esprime invece ora l'umiliazione di colui che è sceso. Grazie per la visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.